Una delle volte che ho fatto l'esperienza di solitudine era al Nanga Parvat, campo 4, dove ho capito che questa salita dal campo 4 in su sarà stata solo una prova di sopravvivenza. Quindi ognuno di noi ha provato nel suo mondo piccolo di aiutarsi a sopravvivere ed ero pienamente consapevole che ognuno doveva riguardare la sua vita perché aiutare qualcun altro era molto difficile. E quindi siamo andati su e nonostante che eravamo distanti 20-50 metri sentivo questa solitudine e non mi piaceva così tanto perché mi sentivo anche così fragile perché sapevo che quando mi rompo una gamba qua o se mi rompo una gamba qua allora forse è anche la mia fine. Tutto questo era ancora molto più intenso poi dopo la caduta che sono ritornata al campo 4 e dovevo essere nella mia opinione ancora più forte perché stavo male, avevo delle ferite e però ognuno era così preso con i suoi problemi, con i suoi congelamenti, con il suo stato d'animo e mentale che ho detto adesso non posso ancora fare più pesante questa situazione. Era una delle mie notti più brutti della mia vita però forse mi ha aiutato tantissimo per il mio futuro. Adesso circa un anno e mezzo fa dovevo fare una scelta molto importante. I dottori mi hanno detto adesso hai due possibilità o vai avanti come hai fatto finora e puoi andare in pensione l'anno prossimo o ti riguardi per la prima volta. In questo momento non so come mai ma c'era qualcosa che mi ha detto adesso è il momento di andare per questa strada ed era molto difficile perché non sapevo se il mio corpo mi lasciava ancora fare le cose che amo poi non sapevo se i miei sponsor rimangono con me o mi sostengono e la terza cosa se non faccio più l'alpinista cosa faccio poi. E quindi erano tanti punti di domanda che mi facevano anche paura. E anche in queste situazioni mi sentivo molto sola perché ho detto ok sono i miei problemi, li so bene e anche se posso parlare con altra gente posso confrontarmi con altra gente però io devo vedere che io sto meglio quindi è tutto nelle mie mani non posso non posso sperare in un aiuto non so grandissimo di un'altra persona. E lì secondo me ogni esperienza che avevo già avuto nella mia carriera, nella mia vita mi ha aiutato a passare questo ultimo anno e mezzo dove veramente mi vedevo molto molto giù in un buco nero e dove pian piano ho tirato insieme tutte le forze per scalare fuori pian piano, step by step, ho cambiato la mia vita, ho fatto tantissima meditazione, ho fatto corsi di autoguarigione altro allenamento, altra alimentazione e così tutto sommato mi ha fatto credere e fidarmi sempre di più nel mio corpo e adesso sono qua e ho una forma fisica che non potevo mai immaginare che in un futuro potevo ancora arrivare a un punto del genere non avevo più speranza nel mio corpo, sì non ho più creduto nel mio corpo e adesso però pian piano ho fatto questo lavoro ed era un lavoro forse anche di amore per me stessa perché prima ho sempre lavorato contro di me ho detto a te faccio vedere al mio corpo perché la mente è molto più forte e così non ero mai unita il corpo, mente e l'anima non erano mai uniti e uno giocava contro l'altro adesso mi sento molto più unita è solamente bello quando si vede che tutto quanto di sé lavora per un grande sogno, lavora per un'altra spedizione e guarda avanti con positività e felicità, è incredibile